LUCAS LUCAS Io in Croazia Sì, dai Adesso? Schema di gioco, destra Ma che è che sto giocando? Perdi il pelle, io sto morto Vediamo che ho già raggiunto 20 secondi No 20 secondi è poco Tutti le difenze Chi vince? Croazia, certo Mamma mia Non c'è partire È possibile, Croazia Però io non voglio arbitro Questo Nishikora Oh, falo così Questo è po' falo, dai Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ano ma Daj LUCAS Spesso io gioco 10 minuti senza correre Sì Voi Voi E Il LUCAS Vai, vai 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 vai! Poi, deixa eu concentrare LUCAS BANJO KIT Hey Lucas, paura Adesso, Paolo. Olić, Olić. È un gioco chino. È un gioco in FIFA. Sì, Conner. Calcio angolo. Sì, certo, certo. Dai, ma non è che stai, no. Prof, dai, guarda, guarda questo. Questo, Paolo. Questo? No, dai, dai. Non è possibile. Mandžukic. Spenditi. Gli stai, Riccardo. Ragono. Rigor. Certo, certo. È un gioco. Guarda, guarda. Guarda. Guarda, adesso, guarda. Il fatto non è entrato. Guarda... grazie 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 scuzie scuzie no niente niente questo è per confidenza mamma mia fuori gioco questo è fuori gioco guardati chi fa il gioco guarda adesso guarda adesso guarda buon gioco bravo bravo ragazzi bravo ragazzi questo è calcio guarda adesso guarda Calma, calma ragazzi. Senza nervoso. Dai gioco. Che è questo? È gioco di... Bravo Marcelo. For gioco magari? Vuoi vedere? Lila. Dai, 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 vai, vai, start. No, senza paura, senza nervoso. Tranquilo. Questa è normale. Tranquilo. Tranquilo. Questo è per tempo. Occasione, mangi. Per tempo. Oh! Dai! 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 Oh! 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 Finito. Oh, grazie. Cambia maga. Sì, sì. Dai, dai, dai. Snimi, snimi. Questo, dai. Risultato. Risultato, risultato, risultato. Metti la camera. Croazia 2, Brasile 1. C'è la delegazione? Guarda. Possessione. Tira la porta. Possessione, dai, posessione. Possessi uguale. Era più giusto un pareggio? Però io vince. Angolo 3-1. Io ho vinto? Colcio, angolo 3-1. C'è un rosso da rivedere. Il cartellino rosso. Solo che tu... Esagerare. Solo che lui ce l'ho più. Io e il cartellino rosso. Questo è dove è meglio. L'unica statistica. Solo dove tu, meglio. Il cartellino rosso. Bravo, bravo, ragazzi. Bravo, ragazzi. Questo è calcio. Non dà bocci? Si, poco. Atacante. Calma, calma, ragazzi. senti a nervoso, no. Vai giusto? Che è questo? È gioco di... Bravo, Marcela. For gioco, magari? Tu vuoi videra? Grazie. Devo condizione. Lila. Dai, 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 vai, 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 start. Oh, falo così. Questo è quello falo, dai. La prossima suona maschia è una. Ma che falo è? Ma dai, no, no, no scherzo. Falo, ma... Oh, dai, dai, Luca, spesso io gioco 10 minuti senza correre. Bravo Luca. Vai, 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 vai. Odi ciò concentrati. Bandžukić. Ok, Luca, paura. Non parla con me. Adesso, paura. Polici, polici. Sì, dai. Pro, pro. Eh, scusa. Scusa, Lucas. No, niente, niente. Questo è per confidence. Bolo. Mamma mia. Fuori gioco. Io penso fuori gioco. Fuori gioco. Questo è fuori gioco. Fuori gioco. Chi fa il gioco? Guarda adesso. Guarda adesso. Guarda adesso. No, guarda. Questo è fuori gioco. Consiglio gioco gioco gioco. Started per 51, uno. Dai mavi. Li ha giocare alla fine? Si, Competiti con sicurolo. Si, certo. uba. Dai, guarda, guarda questo, questo fa uno, questo, no, dai, dai, no, 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 no è possibile. Mangiucchici. Guarda, 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 guarda. Fa tu niente, ma guarda. Grazie. Lukas, io Kroatiano. Si, dai. Adesso? Esquema di gioco. Adesso. Ma che che stai giocando? Perdi per lui, io sto morto, ne? Ok. Vediamo, io ho giocato il dirge. 20 secondi. No. No. Un secondo è poco. No, tutti le difensano. Chi vince? Croazia, certo. Mamma mia. Possibile, Croazia. Però io non voglio arbitro, questo, Nishikora. Nishikora.